Ariete, allettati da un'impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all'altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in leone. Toro. Con la presenza della luna in leone l'umore scivola sotto i tacchi al minimo contrattempo. Respirate a pieni polmoni e provate a resistere. In famiglia cercate di nutrire i legami. Siete presenti non solo con il corpo ma anche con lo spirito. Gemelli. Vi mostrerete molto sicuri di voi e ben padroni di ogni situazione, ottenendo così interessanti vantaggi nella professione e soddisfazioni nel privato. saprete prepararvi egregiamente in vista di un importante colloquio di lavoro o una prova d'esame. Cancro. Avrete la possibilità di migliorare sensibilmente la vostra posizione. Per farlo l'intervento di una persona influente sarà determinante. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere senza doppi fini di un amico. Leone. Oggi potrete far valere i vostri diritti e le vostre opinioni sul lavoro. La luna nel vostro segno vi regala l'ammirazione e la fiducia di molti. Riuscirete a trovare le parole giuste per spiegare i vostri principi e avanzare così le dovute richieste. Vergine. In amore tenderete a preoccuparvi più del dovuto. Se un amico vi proporrà iniziative divertenti e rilassanti, accoglietele vincendo la pigrizia. Il giudizio di un collega vi apparirà irrilevante ma influenzerà invece il parere di quelli che contano. Bilancia. La giornata inizia sotto buoni auspici grazie alla luna in leone e a mercurio in gemelli. Raggiungere gli obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Cambierete volentieri i programmi per la serata quando un piacevole imprevisto farà saltare i vostri piani. Scorpione. Oggi puntate tutto sulla diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lasciate spazio alle iniziative altrui. Una notizia riguardante la casa potrebbe preoccuparvi un po', ma arriverete presto a una soluzione. Sagittario. Dovrete tenere in alta considerazione le opinioni altrui, state però attenti a non farvi condizionare nelle scelte, che devono rimanere vostre. I giovani che vivono in famiglia potrebbero optare per l'indipendenza reclamata dalla luna in leone. Capricorno. Giusto restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po' di fantasia e di vivacità. Oggi alcune circostanze inattese vi costringeranno a gestire in maniera alternativa i vostri progetti. Acquario. Scontrosi e di poche parole con la luna in opposizione, preferite agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non vi capisce. Alti e bassi in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Pesci. Vi si apriranno davanti ottime opportunità. Seguire un corso o leggere un manuale vi fornirà quelle conoscenze tecniche che ad oggi vi mancano. Qualcuno sta attendendo con ansia una vostra risposta e a breve non sarà più disposto a rimandare. Grazie. 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 Grazie.